La domanda di questo convegno è se siamo usciti dalla crisi e a quale punto del guado siamo. Il problema è che durante il passaggio attraverso il fiume questo guado si è allargato. Il problema che viviamo oggi è che ci sono dei cambiamenti strutturali all'interno delle nostre economie che rende difficile capire l'aspetto previsionale. Abbiamo parlato di frontiera tecnologica, abbiamo parlato di una mancanza di investimenti, non solo investimenti infrastrutturali, ma se guardo all'Italia c'è un problema di capitale fisso che andrebbe poi affrontato, quindi investimenti anche in altre aree e settori. Quindi quello che farò oggi non è certamente legato solo all'aspetto investimenti, ma quello di far capire e cercare di ragionare un po' su come l'integrazione finanziaria sia al centro della discussione della crescita, perlomeno all'interno dell'Unione Europea e all'interno dell'Unione Monetaria. Guardando al contesto politico odierno possiamo dire che ci sono delle forti similarità con gli inizi degli anni Ottanta. C'è una ripresa molto debole, c'è una forte fragilità del sistema finanziario, a quei tempi dovuto al crollo di Bretton Woods e la costituzione in Europa del tentativo dell'IRM, dell'Exchange Rate Mechanism, che poi vedremo negli anni fallito. È una stagnazione del mercato dei beni e dei servizi. Questi sono tre aspetti comuni che stiamo vivendo al momento. A quei tempi, agli inizi degli anni Ottanta, questa stagnazione portò a delle decisioni molto importanti a livello europeo. Innanzitutto il riconoscimento reciproco che è l'architettura istituzionale regolamentare attuale ad oggi dell'Unione Europea. Tutte le regolamentazioni che abbiamo conosciuto perlomeno fino al 2007 nel pre-crisi sono costruite intorno al riconoscimento reciproco che venne fuori da quei cambiamenti che l'Europa ricercò in quegli anni per venire fuori da quella stagnazione, quella ripresa molto debole. Il secondo elemento a quei tempi fu il progetto della moneta unica che poi venne sospinto dal report di Delors, ma il report di Delors arrivava già su una serie di report alla fine degli anni Settanta che parlavano già della moneta unica e parlavano anche di un mercato unico dei capitali, nel 66 addirittura. Quindi diciamo che quel contesto è abbastanza simile. Oggi invece chiaramente del rischio valutario abbiamo il rischio fiscale, cioè allora c'era un problema di svalutazione esterna, oggi c'è un problema di svalutazione interna e quindi c'è l'impatto del rischio fiscale, dei problemi delle politiche fiscali sul sistema finanziario. Quindi oggi si parla come costruire una backstop al sistema finanziario, quindi una backstop fiscale, non solo nel lato dell'unione bancaria, quindi delle banche, ma anche dal lato dei mercati finanziari. L'Europa ad oggi è sostanzialmente overbanked, ci sono una serie di studi che stanno venendo fuori sul rapporto tra finanza e crescita che dimostrano come la crescita del settore finanziario, non controllata possiamo dire in questo modo, crea dei problemi, un impatto sulla crescita e quindi sulla caduta del prodotto interno lordo. E qui diciamo il problema non è essenzialmente più credito o meno credito, ma il problema è che i sistemi bancari, l'Europa è principalmente basata su sistemi bancari, ma questi sistemi bancari sono domestici, investono essenzialmente all'interno delle proprie nazioni, accentuando le divergenze anche di competitività tra gli stati membri. Quindi non c'è una sorta di un banking trasfrontaliero, quindi quello è un primo problema importante. Il secondo problema è quello della qualità dell'integrazione finanziaria. Stiamo appurando con gli studi dopo il passaggio della crisi che sostanzialmente la moneta unica non migliora la qualità dell'integrazione, fa crescere l'integrazione finanziaria ma non ne migliora la qualità. Noi siamo cresciuti in termini di integrazione finanziaria essenzialmente con flussi interbancari, senior claim, che durante, la letteratura ce lo dice già dagli anni 90, durante periodi di crisi è soggetta a fuga di capitali. Quindi se essenzialmente l'integrazione finanziaria è basata solo su mercato interbancario, al momento di una crisi le banche che forniscono questa liquidità chiudono i rubinetti. Chiudendo i rubinetti c'è chiaramente un effetto a catena sul credito e quindi stiamo vivendo in alcune nazioni in Europa, quali l'Italia o comunque la Spagna, un forte credit crunch dovuto anche alla chiusura del mercato interbancario che veniva dal nord dell'eurozona. Quindi come costruire una backstop che permetta appunto di garantire una backstop fiscale al sistema bancario ed evitare appunto che ci sia una fuga di capitali. Allora qui chiaramente quando si parla di qualità dell'integrazione si parla di condivisione del rischio, cosiddetto risk sharing e ci sono due forme di condivisione del rischio. C'è quella intertemporale, essenzialmente il rapporto tra il borrower e l'ender, cioè tra colui che prende a prestito e la banca, che ha un forte potere contrattuale, un forte potere finanziario e può permettersi appunto di investire in progetti di lungo termine. E qui sulla parte di condivisione del rischio intertemporale, come dicevo, il problema dell'eurozona in questo momento e dell'Europa è di creare un sistema bancario europeo. Quindi l'Unione bancaria avrà anche la funzione di far fondere alcune delle banche, speriamo molte banche a livello europeo, e creare un flusso di attività bancarie trasfrontaliero. Mentre il punto su cui mi soffermerò un po' di più è sulla condivisione del rischio trasversale, cioè quello che manca oggi in Europa e anche all'interno degli Stati membri è una forte presenza dei mercati finanziari, cioè la possibilità di diversificare il rischio e di diversificare il rischio su una platea molto ampia di agenti, di investitori. E questo è il secondo pilastro del tentativo di far ripartire, appunto le chiamo riforme strutturali per l'Europa, è quello appunto di far ripartire i mercati dei capitali, ma non solo all'interno delle nazioni, ma essenzialmente a livello europeo. E ci sono una serie di contributi importanti che dimostrano come l'integrazione finanziaria ha un impatto sulla crescita, su innovazione e infrastrutture, perché riesce essenzialmente a disperdere il rischio su un insieme di agenti molto ampio, quindi ha una predisposizione all'investimento su progetti più rischiosi. E qui ci sono anche una serie di studi empirici che dimostrano come il finanziamento tramite il mercato permette investimenti in innovazione più dei finanziamenti bancari. C'è un problema di ristrutturazione dei sistemi bancari nazionali, come ben sapete i non performing loans sono all'ordine del giorno per i regolatori europei, come ridurre appunto lo stock di asset che sono sofferenti all'interno delle banche. Il mercato qui può giocare un ruolo importante perché offre un prezzo di mercato a questi asset. Quindi le banche che chiaramente dovranno prendersi queste perdite potranno avere una via di uscita. Abbiamo visto in Italia come una parte delle ristrutturazioni è venuta fuori proprio dai fondi di investimento. Alcuni fondi di investimento si sono presi pacchetti di prestiti di banche italiane. Poi c'è chiaramente l'altro elemento che rende le politiche monetarie più efficaci perché costruisce dei tassi di interesse di mercato. Non sono più tassi di interesse fissati da un pool di banche o comunque dal regolatore o dalla banca centrale. Quindi sono tassi di mercato, quindi rende le politiche monetarie e anche il quantità di vising più efficace. Il terzo e il quarto forse anche più importante è quello che costituisce, in questo modo si costituisce il tentativo appunto di espandere il mercato unico. Qui non è appunto il problema di dividere la stessa torta in tante fette diverse, ma anzi di allargare questa torta. E c'è un potenziale enorme a livello europeo, abbiamo fatto dei calcoli che vi farò vedere in un attimo, sul potenziale di liquidità che può essere destinato ai mercati. Qui è il collegamento tra integrazione finanziaria e crescita in maniera stilizzata sulla base degli studi della letteratura, quindi non voglio tediarvi più su questo, magari avrete la presentazione e la possibilità di analizzarlo. Come dicevo in precedenza c'è una poca condivisione del rischio a livello europeo, se uno va a analizzare utilizzando gli indicatori standard di condivisione del rischio, in sostanza a livello europeo in caso di shock dell'output, di crescita, l'assorbimento da parte dei mercati finanziari è persino negativo. Non c'è una barriera che possa assorbire gli shock asimmetrici da parte dei mercati, c'è molto poco di fiscal transfer, trasferimenti fiscali, c'è abbastanza in termini di risparmio, e c'è una grande parte, quasi il 70% di questo shock asimmetrico che non viene proprio assorbito da meccanismi europei. Come dicevo l'intermediazione è overbanked, se guardiamo la grandezza del sistema bancario è comparabile in termini relativi a quello cinese, la Cina non è famosa per i suoi mercati, quindi possiamo dire che se rimuoviamo poi la parte di mercato obbligazionario emesso dalle banche sulla base delle garanzie implicite offerte dagli Stati nazionali, quel numero di 163% scende molto vicino al 51% cinese. Quindi c'è un problema di creazione di una base di cross section, quindi di condivisione del rischio trasversale, quindi di creazione dei mercati, che è abbastanza importante. Se guardiamo poi la diversificazione delle fonti, essenzialmente le nostre imprese si finanziano per quasi l'80% solo con prestiti bancari, il che crea il problema, diciamo, se c'è troppo credito bancario, il problema sulla crescita, perché il credito bancario, come dicevo in precedenza, ha una tendenza all'over collateralization, cioè a finanziare progetti collateralizzati. I progetti collateralizzati di solito non sono quelli innovativi, non sono quelli che possono portare potenziali di crescita molto elevati. Quindi c'è un problema di ribilanciamento e poi bisogna dire che gli Stati Uniti non è, come c'è questa favola che gira, che sia 80-20 sia l'opposto. In realtà la presenza dei prestiti bancari negli Stati Uniti è molto più rilevante di quanto si pensi. Quindi per dire che bisogna creare un ecosistema finanziario bilanciato, non un sistema bilanciato o da una parte o dall'altra. Quello che dicevo appunto sull'analisi di quanta liquidità potrebbe potenzialmente esserci, basta giocare un po' con dei numeri. Ho cercato di costruire qui un bilancio dell'economia europea. Dal lato degli assets ci sono essenzialmente le fonti finanziarie delle imprese. Dal lato delle fonti ci sono gli assets, ci sono gli impieghi delle famiglie, essenzialmente degli households in generale. Il sistema finanziario nel mezzo è intermediazione, quindi non crea in sostanza valore di per sé. Trasferisce il valore appunto dagli households alle imprese. E lì c'è una forte dominanza della liquidità disponibile, cioè del cash e dei depositi. E se si va a ridurre da questo, e c'è poi chiaramente un molto basso holding di debiti, di debito obbligazionario e di azionario. Se si va a togliere dalle disponibilità, dei depositi, quello che viene poi reinvestito, cioè mutui, credito al consumo, depositi di imprese, eccetera, rimangono circa 1800 miliardi di euro che siedono in depositi bancari, in alcuni casi con tassi reali negativi, e che potrebbero essere riallocati verso presidenza complementare, verso investitori istituzionali e verso appunto il mercato, per creare quel mercato unico dei capitali a livello europeo. Se uno poi guarda la varianza, se guarda poi le differenti realtà europee, quello che vedete in blu chiaro, in sostanza la liquidità, cambia all'interno dell'Europa in maniera molto forte. In paesi dove sono sviluppati investitori istituzionali, quali l'Olanda, l'Inghilterra e la Svezia, la liquidità in depositi è molto molto bassa, mentre in nazioni come la Grecia, di recente dovuti anche ad altri problemi, la Slovacchia, Slovenia, ma anche l'Italia, si va ben oltre al 50% di tutti gli asset finanziari degli households in liquidità. E quindi c'è, il mercato c'è, la domanda probabilmente c'è lo stesso. Allora, qui a livello di investitori istituzionali, i fondi di investimento hanno avuto e stanno vedendo una crescita abbastanza elevata. Anche i fondi pensioni, come è stato menzionato in precedenza, stanno crescendo, ma ad un ritmo molto molto più basso, come potete vedere al fondo di questo grafico. Quindi c'è in sostanza una domanda di investimenti anche a livello europeo. Se uno va a vedere il portafoglio, adesso non ho tutte le slides perché sennò qui saremmo a parlare per un'ora, se uno va a vedere il portafoglio di investimento, dei fondi di investimento, essenzialmente è per oltre il 30% in azionario e molti di questi investimenti sono trasfrontalieri. Quindi c'è negli investitori istituzionali un aspetto strutturale nei loro obiettivi di investimento che va oltre i confini nazionali. E questo anche dai dati mostrati dalla Covid sembra abbastanza chiaro anche per i fondi pensioni. Se guardiamo però all'infrastruttura, alla struttura del mercato degli investitori istituzionali, principalmente dei fondi di investimento, vediamo che in Europa ci sono quasi 33 mila fondi di investimento contro gli 8 mila negli Stati Uniti e la dimensione media di questi fondi di investimento è poco più di 200 milioni di euro. Compariamo questa grandezza con gli Stati Uniti dove siamo oltre al miliardo di euro. Allora non dobbiamo chiaramente raggiungere quei livelli ma c'è un problema di frammentazione del risparmio gestito in Europa, c'è un problema di distribuzione dei prodotti finanziari e dei prodotti di investimento in Europa con mercati quali l'Italia fortemente chiusi che vanno aperti agli investitori e bisogna dare agli investitori scelta appunto nelle scelte di investimento. Se guardiamo diciamo alle fondi pensioni come mostrato in precedenza, l'Olanda, l'Inghilterra, l'Irlanda, la Danimarca dominano il mercato dei fondi pensioni e pensioni europei, mentre chiaramente l'Italia come abbiamo visto è tra i paesi in coda. Chiaramente c'è un problema appunto di creazione di un'industria di investitori istituzionali forte a livello europeo e quindi ci sarà nei prossimi anni la necessità anche di ulteriori fusioni tra asset managers all'interno e in Europa in funzione appunto di creare l'infrastruttura per il mercato unico dei capitali. Quindi per concludere, c'è a livello europeo una forte tensione tra riduzione del rischio e condivisione del rischio. La posizione tedesca è quella di riduzione del rischio, dovete mettere prima le vostre finanze a posto, dovete costruire diciamo uno strumento di supervisione regolamentare forte che appunto riduca il rischio finanziario, poi possiamo parlare di condivisione del rischio, condivisione del rischio appunto è quello che le istituzioni europee stanno portando avanti lentamente cercando di appunto di rompere il blocco che rallenta appunto questo tipo di riforme e quindi si va verso innanzitutto regole e supervisione comune, quindi nel mercato finanziario gran parte di questo già c'è, le varie diciamo MIFID, MAR eccetera, la regolamentazione finanziaria è diventata europea e la supervisione che ancora rimane dietro, mentre con l'unione bancaria anche con l'introduzione del fondo di depositi di garanzia dei depositi europei di recente si va verso la creazione appunto di una condivisione del rischio vero dove la backstop fiscale per oggi non è molto chiara, però ci sono delle clausole abbastanza aperte che in una situazione di crisi potrebbero dare accesso per esempio all'ESM e quindi al backstop fiscale all'unione bancaria, quindi avendo una backstop fiscale europea si eviti, si slega in questo modo il sistema finanziario dal rischio sovrano, cioè ci possiamo permettere di far fallire la Grecia senza chiudere le banche greche. Questo è l'obiettivo essenziale di queste diciamo riforme a livello di unione bancaria, è quello di riforme dei mercati capitali anche per fornire una backstop privata ai rischi e agli shock asimmetrici. Quindi i debiti pubblici hanno un ruolo essenziale, importante e hanno un peso forte sulla crescita e quindi la condivisione del rischio, queste riforme che vanno verso la condivisione del rischio tra paesi europei sono l'anticamera della ristrutturazione perché nel momento in cui riesci a slegare il rischio sovrano dal rischio del sistema finanziario, cioè ci possiamo permettere di far, non fallire, ma ristrutturare un debito pubblico senza chiudere le banche perché le banche viaggiano su un sistema di safeguards, quindi di backstop fiscale europeo in quel caso allora si può parlare anche di ristrutturazione dei debiti nazionali che per adesso rimane un tabù proprio perché siamo in un periodo di transizione e peraltro l'ABC sta aiutando questo periodo di transizione col quantità di vising perché mantiene la situazione sui mercati calma e dà il tempo all'istituzione europea appunto di portare avanti queste riforme. Quindi l'ultimo punto è che questa azione è essenziale perché la prossima, diciamo la prossima che si parla sempre della prossima crisi finanziaria probabilmente non sarà come quella che abbiamo visto nel 2007, cioè aspettarsi che ci sia, ci sarà uno shock asimmetrico forte che dobbiamo poi reagire immediatamente con interventi di emergenza, probabilmente non è lo scenario che vedremo nei prossimi anni, ma vedremo magari uno scenario più giapponese degli anni 2000, cioè quello di una crescita che rimane molto debole, un sistema finanziario imbalsamato da non performing loans, quindi da asset in sofferenza che fanno fatica ad essere cancellati dai bilanci delle banche e dagli istituti finanziari perché hanno un costo immediato forte e chiaramente anche la governance rimane fortemente politicizzata, quindi la crisi forse dei prossimi anni sarà appunto quello di avere un sistema economico con bassa crescita, un sistema finanziario che rimarrà molto fragile e soggetto a crisi molto temporanee e l'obiettivo di slegare il sistema finanziario dal rischio sovrano va verso la direzione di ripulire i bilanci delle istituzioni finanziarie, ripulire i bilanci dei governi nazionali e far ripartire la crescita su basi strutturali solide, quindi per me l'integrazione finanziaria gioca un ruolo essenziale, forse il ruolo più importante per l'Europa perché l'Europa è diversa dagli Stati Uniti, ha un percorso totalmente diverso da quel punto di vista e quindi ci sono molte prospettive e aspettative da queste riforme. Grazie.